Noi siamo quattro artiste, quattro donne amiche, pittrici, abbiamo questa bella passione in comune e abbiamo deciso di esporre con il gruppo del Cenacolo più al circolo artistico. Si chiama Tracce d'Arte ed è l'esposizione di quattro artiste a retine promossa dal Cenacolo degli Artisti. Troverete un po' di tutto, dall'acrilico, olio, pastello, acquerello, soggetto figurativo, paesaggio, animali, insomma ce n'è per tutti i gusti, quindi è molto vario, non è che c'è un tema predominante, quindi è abbastanza assortito. Poi ci sono anche un paio di pezzi dedicati alla storia del cinema. Anche quelli sì, perché era una mostra che avevamo fatto sempre con il Cenacolo degli Artisti a retine a settembre, quindi troverete anche qualcosa inerente appunto al cinema. In esposizione al Circo L'Artistico di Arezzo, sino a mercoledì 7 giugno, la mostra di Monia Casalini, Laura Polverini, Silvia Peruzzi e Laura Gatteschi. I fiori mi piacciono anche perché fanno comunque parte della natura e fanno parte della mia vita come gli animali. Sono cose vive, io le considero cose vive che mi danno energia, per cui le ritraggo.